ecco il riscaldamento dei ragazzi del rapino calcio con la classica maglia nero verde come i colori del chieti da quest'altro lato c'è i ragazzi della virtus castelfrentano oggi siamo quasi alla fine del campionato formazioni rimaneggiate per entrambe le compagini formazione tipo ecco il capitano nicolò mister il nostro tenaglia nicola mister di donato daniel in porta grazie